Ammonte, anzi un gioco più. Non si può giocare così. Io non mi diverto appunto a letigare sottovoce. I bambini sono bambini. No, no, questo è un bimbo particolare. Io uno così non l'ho mai visto da nessuna parte. Sai cosa c'è? Non ride mai. Mai? Eh, com'è la sua mamma? Non è il minimo senso dell'umorismo. Anzi, c'ha... come si chiama? È il contrario. Il senso di rompere i coglioni. Ecco, io non ne posso più. Io non lo sopporto più. Certo, se posso...